Ciao a tutti ragazzi qui è il vostro Art che vi parla, siamo qua con un altro blog da parte di Call of Duty e Treyarch per quanto riguarda le mimetiche, le ricompense dei prestigi e appunto tutto quanto il sistema di prestigio. C'è anche qualcosina per quanto riguarda i biglietti da visita, le Dark Ops, anche se ovviamente non ci hanno spiegato letteralmente tutto quanto ma è un blog molto molto interessante con tutto quello che potremmo fare su questo Black Ops 6 per quanto riguarda tutte le sfide, le cose da sbloccare e ovviamente un grind che sarà probabilmente molto lungo ma secondo me è molto soddisfacente e divertente. Come sempre per chi vuole vedere il blog di una sua interezza lo trovate in descrizione io andrò abbastanza veloce perché le informazioni sono tante ma mi interessa principalmente la parte di zombie. State comunque tranquilli che il grind per questo gioco compende veramente tanto per multiplayer, per zombie e sicuramente Warzone e se uno vuole fare veramente tutto quanto su tutte le modalità ci vorrà sicuramente molto molto tempo cioè nonostante ci sono comunque delle ricompense veramente spettacolari per tutti quanti quelli che vogliono completare tante sfide, mimetiche, armi e tante altre cose e tutto il sistema di prestigio con 10 prestigi, maestro prestigio e in seguito altri 1000 livelli il sistema classico che c'era anche nei vecchi COD. Per cui inizialmente viene spiegato il fatto che ci sono i classici 55 livelli di Black Ops per sbloccare tutto quanto questo vale per multiplayer, zombie e Warzone e ovviamente un livello condiviso dopodiché possiamo prestigiare per resettare tutto quanto e fare questa cosa 10 volte e poi 1000 livelli ci sono tutte le sfide per i bietti da visita, multiplayer, zombie, campagna e ovviamente anche Warzone e bietti da visita conclusivo per il 100%. Ci sono sfide per le armi tra cui mimetiche, anche sblocchi per tutti quanti i reticoli, i mirini e poi alla fine quelle che sono diciamo le sfide complete di maestria come viste tante volte in questi ultimi COD, non penso a livello di Mv3 per fare un esempio ma comunque completare tutto quanto su un'arma ci dà appunto quello che dovrebbe essere il portafortuna e la sfida di completezza totale e maestria quantomeno per quell'arma e inoltre su questo gioco ci sono sfide anche per equipaggiamento, potenziamenti da campo e addirittura serie di punti. Ad esempio ci mostrano inizialmente questo che è il sistema della caserma con tutti quanti i suoi sblocchi, come ho detto prima a 55 livelli con veramente tante cose a sbloccare ma questo è appunto soltanto l'inizio e ovviamente sblocchi che valgono per multiplayer e per zombie con letteralmente tutti quanti gli oggetti. In seguito c'è questa specie di schermata specifica per quanto riguarda il prestigio e questa cosa è molto interessante per quanto riguarda la progressione. Come al solito possiamo arrivare appunto al 55 e prestigiare ci verrà risettato praticamente tutto quanto ma ci verrà lasciati diversi oggetti e per ognuno di questi prestigi andando avanti coi livelli ci saranno anche altre ricompense. Ad esempio nel prestigio 1 che ha questa icona di World at War c'è una skin per Weaver chiamata Nakt Rider che appunto sembra uno dei soldati originali di Naktaran Totten per World at War in versione zombificata con Weaver come personaggio di base infatti per dire ha tutto quanto l'occhio sinistro coperto e devo essere sincero questo è soltanto l'inizio per quanto riguarda le ricompense del primo prestigio e già partiamo veramente benissimo sicuramente sul fronte zombie. Questa appunto è la skin e in seguito ci sono anche altre ricompense continuando ad andare avanti per questi livelli di ogni prestigio e questo per tutti i prestigi e come idea secondo me è veramente spettacolare perché ogni prestigio a parte il prestigio in sé e di sbloccare praticamente sempre le stesse cose abbiamo queste ricompense aggiuntive perché vuole completare veramente tutto quanto e se questo è il punto di partenza ripeto che secondo me partiamo veramente benissimo. Come ho detto prima ci sono tante cose che verranno totalmente resettate tra cui ovviamente il livello ma anche tutti quanti gli sblocchi col livello stesso per cui per dire tutte quante le armi tutte quante le gabble gum e i loadout ma tutto il resto per quanto riguarda le nostre statistiche nostra progressione, le nostre build per le armi, le nostre sfide, battle pass, operatori e simili tutto quanto rimarrà tranquillamente per noi totalmente sbloccato e potremo continuare a utilizzarlo. Inoltre ci verrà fornito come era nei vecchi code un punto per uno sblocco permanente per avere un oggetto appunto per sempre anche nei prestigi successivi. Un'oltre prestigiato come detto prima c'è la nostra icona prestigio delle ricompense e appunto questa hub per quanto riguarda gli sblocchi successivi. Come detto prima un sistema secondo me veramente spettacolare e questi sono tutti quanti i dieci prestigi disponibili su Black Ops 6 assieme anche al maestro prestigio e seguito i suoi mille livelli. Non so se ne aggiungeranno anche altri nel corso delle season o appunto rimarrà questo sistema di livelli classico di una volta per tutto quanto Black Ops 6. Qua fanno alcuni esempi per quanto riguarda le ricompense principalmente a tema di zombie che è sicuramente tanta roba ma ovviamente ci sono tante altre cose per altri player di multigiocatore e di Warzone con tanti riferimenti al passato. Soltanto per zombie qua vediamo la skin di Weaver alcuni portafortuna, emblemi e anche la schermata di caricamento di The Ries che mi fa godere veramente tanto. In aggiunta come era su Black Ops 3 e Black Ops 4 per fare un esempio arrivando al livello 1000 ogni 100 livelli avremo disponibili anche i vecchi emblemi prestigio di tutti i code precedenti di appunto quella fascia per cui probabilmente nel livello 100 tutti gli emblemi per il prestigio 1 di tutti i code passati normali e anche zombie e c'è tanto ma tanto materiale. Inoltre spero che come è stato proprio su Black Ops 3 e su Black Ops 4 ci sono altre icone un pochino diverse non soltanto di prestigio da poter utilizzare. Per poter mettere come una volta l'icona del jug della double tap di alcune gabble gum o oggetti di zombie sarebbe veramente fantastico ma già così è un ottimo inizio. Inoltre posso sperare in un sistema di negozio prestigio come già visto anche su Cold War che secondo me era un'ottima aggiunta. Proseguendo ci sono invece tutte quante le sfide per quanto riguarda i biglietti da visita e come ogni anno per COD c'è veramente tanta roba per cui le sfide di carriera le sfide prestigio con tutti i livelli successivi ma anche per dire le Dark Ops quindi per multiplayer, campagna, zombie e warzone ci sono veramente tante cose che possiamo completare e tante ricompense da ottenere con emblemi, biglietti da visita tante cose da sbloccare e in seguito tutto quanto si conclude copiato da visita del 100% per multiplayer, warzone e zombie e già possiamo vederli che sono anche in parte animati. Proseguendo vediamo qui invece tutto quanto il sistema di mimetiche che già hanno in parte accennato per cui la cosa principale è che non serve livellare le armi tutto quanto si può sbloccare fin da subito e ci sono sfide di maestria per multiplayer, zombie e warzone con diverse cose da sbloccare. Inizialmente ci sono le cosiddette mimetiche militari che sono sfide principalmente di headshot per multiplayer kill critiche per zombie e uccisioni e basta per warzone e questo rappresenta le prime nove mimetiche che si possono sbloccare tranquillamente. A quel punto in seguito potremo fare le due mimetiche speciali che sono invece delle sfide specifiche per quell'arma nuovamente per multiplayer zombie e warzone una volta completate finalmente queste due sfide speciali e le sue mimetiche potremo passare alla sezione di maestria per cui come è stato nei code recenti andrà fatta una sfida specifica per sbloccare la mimetica oro che non verrà sbloccata in automatico e così di conseguenza per la diamante la dark spine per fare un esempio e così via per tutte quante le altre sezioni di maestria per tutte quante le modalità. Tutto si culmina con la mimetica finale che per dire su un multiplayer è quella dark matter per zombie dovrebbe essere la versione nebula ma anche appunto warzone ha la sua mimetica finale la abyss. In aggiunta sfide per quanto riguarda i mirini tutti quanti i reticoli e la cosa interessante è che le sfide non sono soltanto per arma ma per reticolo preciso quindi penso che se un reticolo un mirino vale per diverse armi basta sbloccare tutto quanto soltanto una volta e varrà per tutte quante le armi su cui possiamo applicare questo accessorio e non andranno rifatte tutte quante le sfide da zero che ha perfettamente senso. E infine il sistema di maestria per quanto riguarda sbloccare letteralmente tutto il possibile su un'arma una classe di armi un equipaggiamento e così via ci sono veramente tante cose che possiamo completare e di conseguenza vedere una sezione in cui possiamo sbloccare letteralmente tutto quanto per tutte le armi e completare appunto queste maestrie ancora una volta penso che ci siano delle piccole ricompense come biglietti da visita porta fortuna emblemi e simili come viste per dire anche soltanto su cold war ma specialmente su code recenti come mv3 dove le cose a sbloccare erano veramente veramente tante però se uno è veramente curioso di avere tutto il possibile qua c'è veramente tanta carne sul fuoco e il grind potrebbe essere molto molto lungo specialmente per certi oggetti come equipaggiamento qua si vedono una serie di punti ma addirittura i potenziamenti da campo su zombie che è sicuramente molto interessante e infine per concludere tutto quanto la schermata delle medaglie per multiplayer warzone ma anche zombie in cui possiamo vedere tutto quello che si può sbloccare e le medaglie che vedremo a schermo sicuramente non troppo interessante ma qualcosina in più inoltre qua teoricamente non è accennato al 100% ma nella caserma di zombie ci sarebbero anche le nostre statistiche con un registro di battaglia e anche delle classifiche che si spera siano fatte bene quindi questo dovrebbe essere teoricamente l'ultimissimo blog per quanto riguarda Black Ops 6 subito prima del lancio con letteralmente tutte le informazioni possibile perché il gioco è davvero alle porte ora manca davvero pochissimo sono davvero contento del fatto che il grind quest'anno sia così lungo almeno per zombie e ci sono tante cose da sbloccare io stesso su Cold War e su Vanguard ho letteralmente completato tutto quanto mentre il recente Mv3 dopo un po' mi ha annoiato qui ho lasciato il grind che in parte ovviamente ho completato ma ho aggiunto a un certo punto troppe sfide troppe cose da fare e gameplay alla base non mi faceva impazzire con questo Black Ops 6 sono molto più fiducioso e cercherò di completare veramente tutto quanto come ho già fatto anche in passato a riguardo voglio sapere le vostre opinioni per quanto riguarda tutto lo sbloccabile e quanta roba appunto c'è su questo gioco sicuramente per zombie ma se uno è curioso di fare tutte le modalità ci vorrà veramente tanto tanto tempo e penso che se il gioco uno lo diverte potrà giocarci un tempo in memore per cercare di sbloccare letteralmente tutto quanto specialmente sull'unizio a fare tutto sul multiplayer tutto su Warzone e tutto anche su zombie insomma deve stare pronto a dedicarci veramente tanto il video quindi ragazzi di Concudo è qui spero come sempre che vi è stato utile e vi sia piaciuto ovviamente il blog originale è qui sotto in descrizione ci sono anche tutti quanti i miei social se volete Instagram, Twitch il canale Discord e la pagina TikTok noi ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio ala